Continua con gioia e tanto divertimento l'esperienza del progetto Io Bio tra panierice per i bambini delle scuole primarie Pagoto, Pertini e Bassi Catalano, che assieme ai docenti stanno realizzando vari elaborati a completamento delle attività del progetto. Tra disegni, cartelloni colorati, preparazioni gastronomiche e racconti, i ragazzi stanno dunque sempre di più acquisendo consapevolezza rispetto ai temi del biologico e del mangiarsano in un percorso di crescita personale e collettiva che va a rinsaldare anche i rapporti tra compagni e naturalmente tra la stessa istituzione scolastica e i bambini che stanno vivendo le attività del progetto Io Bio tra panierice, sì come un gioco ma anche con grande consapevolezza. Sentiamo. Oggi mi sento proprio uno chef. Le ranze hanno fatto un salto sul mio crembiola. Io sono Biongella, la coccinella che fa da sentinella. Con me i nemici delle piante se la danno a gambe. Grazie ai disegni che abbiamo fatto sappiamo cosa mangiare per una sana alimentazione il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Ci serviva per mangiare sano. Un giorno si incontrano in cortile delle classi biologiche, una classe biologica e una classe peste che vuol dire una classe di frutti e ortaggi pieni di pesticidi. Sarebbe bello fare questa attività più spesso a scuola. Cosa disegni? Un negozio con tutti i prodotti biologici, con dei frutti. Questo dolcino di mandorle. L'abbiamo fatto bene, è buono. Oggi abbiamo continuato questo lavoretto di O.Bio. Ci sono diversi personaggi. Tra questi personaggi ci sono Melonia e Arancita che si mettevano a parlare fra di loro per discutere dei loro trattamenti estetici. Io mi sono sentita molto bene, ero molto emozionata. Abbiamo realizzato per il progetto O.Bio una tovaglietta intitolata Le stagioni nel piatto. Andremo a piantare dei semi di basilico. Ora io andrò a mettere dell'acqua nella terra per farla ammorbidire. Melona dice, guarda che belle che sono le mie labbra. Ho appena fatto una puntura di pesticidi. Arancita risponde dicendo, tocca la mia pelle, liscia e luminosa. Ho appena fatto una maschera antibiotica. Stiamo realizzando questo progetto per sottolineare l'importanza dei prodotti stagionali, perché quelli non stagionali sono stati coltivati con prodotti chimici, diserbanti e che fanno male all'ambiente. Ragazzi, cosa abbiamo preparato per I.O.B.io oggi? Le labbrazette per la colazione! In questo lavoretto ci sono scritti tutti i giorni della settimana e che cosa si dovrebbe mangiare ogni giorno a colazione per stare bene. Un cartellone intitolato La vita a colori e un altro cartellone per la settimana bio. Così ogni settimana mamma e papà sapranno cosa portarci nel piatto di frutta stagionale. Melina e Aran... Aranci... Ariella. Melina e Ariella. Noi stiamo realizzando un orto in plastica con del polistirolo, bastoncini, carta, foglie e dei semi. E ora invece andremo a piantare dei semi di basilico. Abbiamo anche realizzato delle coroncine che stiamo indossando. Il mio amico Stefano indossa un cavolo, il mio amico Steven indossa un carciofo e invece il mio amico Marco indossa un pomodoro. Abbiamo scritto anche cartellini. E ora che cosa facciamo? Metto la terra. Sto disegnando un camion che trasporta della frutta biologica per stare tutti in salute con la frutta biologica. E anche abbiamo costruito delle carote di carta e tante cose di carta. E quindi sapete che vi dico meglio essere naturali, secchi, ma saporiti su così, che essere belli perché modificati. Viva Dio!